Sono passati dieci giorni dal brutale omicidio di Sharon Verzeni ed è sempre più incredibile che la morte di questa giovane donna sia stata commessa senza in realtà fare rumore perché l'ultima telecamera pubblica che ha inquadrato Sharon si trova a 200 metri dal luogo dell'aggressione che è nella via piena di case basse nella quale la ragazza è stata accoltellata insomma continuano ad aprirsi misteri nei misteri in questa storia e in realtà lo scenario a cui ci hanno abituato all'inizio quindi di una tranquilla realtà si sta tramutando in qualcosa di diverso Alessandro Politi giornalista e collega è in collegamento da Milano giornalista investigativo Alessandro Politi lo conoscete bene il pubblico di No Mattina e Estate lo conosce molto bene e Alessandro si buongiorno buongiorno a tutti ciao buongiorno benvenuto allora tu sei andato lì è vero a Terno d'Isola? io ieri notte sono andato a Terno d'Isola e ho ripercorso la stessa ipotetica strada fatta proprio da Sharon dalla vittima e nel passeggiare in quelle vie di un tranquillissimo paesino di 8 mila abitanti quindi non è scampia come si vuole forse far credere ah perché lei è andata in quella zona è una via normalissima in un paesino molto carino ordinato silenziosissimo ora arriveremo anche su questo punto e camminando come vedo nelle immagini ho individuato una maglietta sporca di non si capisce cosa potrebbe essere del sangue a circa 200 metri dalla scena del crimine cioè tu hai pensato a trovare quella maglietta che stiamo vedendo nelle immagini? sì ieri sera io sono arrivato perché da inviato certo volevo capire e vivere la situazione direttamente e nel ripercorrere tutte le possibili strade fatte quella notte di 10 giorni fa tra mezzanotte e mezzanotte 50 da Sharon mi sono imbattuto in questa maglietta chiaramente non l'ho toccata certo ho visto con la torcia perché comunque era il buio delle tracce che potevano essere riconducibili al sangue ed essendo a 220 metri dalla scena del crimine ho subito avvisato le forze dell'ordine che sono arrivate tempestivamente e l'hanno repertata non sappiamo chiaramente se questo tipo di reperto sia effettivamente utile alle indagini ma sembrava doveroso ovviamente indicarlo questo è secondo me utile anche per provare a capire quanto questa vicenda sia controversa e incredibile sono tantissimi i moventi i moventi sono tantissimi le ipotesi fatte fino adesso e questo potrebbe essere sicuramente nulla come potrebbe essere qualcosa di utile alle indagini come abbiamo visto e sentito sono entrati in campo anche i ROS che sicuramente daranno una grossissima mano alle indagini che sono dei super esperti delle investigazioni grazie Alessandro allora proprio partendo da quello che ci hai raccontato mi vorrei collegare con Massimiliano Bruni il nostro inviato che è proprio lì a Terno d'Isola per avere un racconto di mattina della zona perché Massimiliano ovviamente non è arrivato adesso ma è già da ieri Massimiliano ciao Greta siamo qui vedete i fiori che sono qui per terra sono quelli dei posti nel luogo dove Sharon è stata soccorsa dall'ambulanza mentre secondo la ricostruzione l'aggressione sarebbe venuta da quest'altra parte della strada perché qui erano state trovate delle tracce di sangue che poi il violento temporale di ieri ha cancellato quindi secondo la ricostruzione lei sarebbe avrebbe attraversato la strada da una parte all'altra sarebbe stata accoltellata da un'altra parte per poi essere ritrovata dall'altra parte della strada questo mi stai dicendo esattamente esattamente questa è una circostanza singolare che andrà approfondito perché abbia fatto perché abbia avuto questa scelta una persona diciamo colpita a morte perché ha usato le sue forze per attraversare la strada comunque il luogo dove è successo lo vedete da voi è un tranquillo soborgo, case basse, tanto verde, una strada poco frequentata molto tranquillo sembra sì esattamente abbiamo parlato però con le persone del luogo soprattutto le persone che hanno cani abbiamo chiesto ma la sera voi venite qui a portare fuori i vostri cani e loro ci hanno detto no perché diciamo questa questa zona dopo le al tramonto dopo le nove le dieci di sera diventa infrequentabile perché è piena di balordi e soprattutto in fondo a questa via a 200 metri che se riusciamo ad inquadrare dall'altra parte in fondo alla via c'è piazza sette martiri che sarebbe una piazza di spaccio e secondo la ricostruzione Sharon a mezzanotte e mezza, mezzanotte e tre quarti veniva proprio da piazza sette martiri in questa direzione certo una circostanza singolare noi siamo in un soborgo di Terno d'Isola che lo ricordiamo è un paese di circa 8.000 abitanti di cui mille sono immigrati Massimiliano scusami ma Sharon stava tornando a casa quindi passava lì tornando a casa Sharon stava tornando a casa dopo la passeggiata però gli abitanti ci hanno detto sì ma come si dice il paese mormola ma perché tra tanti posti per fare una passeggiata lei abbia messo nel suo percorso piazza sette martiri Benissimo grazie Massimiliano molto chiaro torniamo da te tra poco mi ha raggiunto il studio buongiorno benvenuta Maria Malucelli docente di psicologia e psicoterapeuta allora professoressa Malucelli il racconto che ci ha fatto Massimiliano Bruni e quello che ci ha detto anche Alessandro Politi è una zona di giorno tranquilla di notte sembra che si trasformi dal racconto degli abitanti che tipo di realtà potrebbe raccontare tutto questo una realtà in cui la violenza diciamo collettiva e tacita che in questo momento sta facendo soffrire tutto il mondo e che fa in verità del maschile l'autore di questa violenza permette che il femminicidio venga in qualche modo raccontato come bisogno che la donna in verità non sia persona non esprima il suo bisogno di scegliere quello che vuole l'uomo che vuole la situazione che vuole e anche la libertà che vuole è una situazione pericolosissima che ci rimette un'altra volta nella condizione di chiedere protezione in qualche modo anche a livello collettivo perché veramente stanno mancando tutte le sicurezze io vorrei dire con tutto il cuore che è anche il nostro delitto questo cioè noi siamo comunità stiamo dimenticando di essere comunità io ricordo bellissimo di quando ero piccina noi abitavamo in una zona periferica di Roma ma era estate e in questa via isolata spesso si fermavano le macchine dei fidanzatini per parlare insomma amoreggiare eccetera ad un certo punto mentre noi piccoli giocavamo mia nonna ha sentito questo ragazzo che gridava verso la sua ragazza lei ha aperto il cancello, ha bussato al vetro e lo ha rimproverato e gli ha detto lei non può trattare così questa ragazza e lui ha detto si faccia gli affari suoi e mia nonna ha detto quelli sono affari miei lei potrebbe essere mia figlia certo il racconto purtroppo di una società che non esiste più Alessandro Politi abbiamo sentito quel racconto di Massimiliano Bruni molto interessante anche quello che ci dice la professoressa Maluccelli rispetto a una comunità che in qualche modo non esiste più però Bruni ci racconta di una zona che cambia faccia quindi la mattina un tranquillo soborgo dove abitano persone tranquille di sera si trasformerebbe Greta guarda io proprio per questo motivo da inviato sono abituato a raccontare il territorio e a viverlo e per questo motivo sono andato di notte perché volevo vedere questo cambiamento repentino in realtà non è quello che ho documentato perché c'erano tantissime persone che passavano col cane c'erano tantissime persone che passeggiavano finestre aperte, cancelli bassissimi poi sì ho parlato anche con gli abitanti del condominio dove è stato sequestrato questo box e mi hanno detto sì effettivamente c'è un via vai anomalo all'interno di questa palazzina ma nessuno mi ha parlato di piazza di spaccio io ho vissuto raccontando Parco Verde a Caivano che è una vera piazza di spaccio ho raccontato per anni il traffico in tutta Italia di droghe in alcune grandi piazze di spaccio quella non è una piazza di spaccio però Alessandro secondo la tua esperienza non potrebbe essere in qualche modo una sorta di polvere sotto il tappeto qualcosa che si vuole un po' potrebbe no? potrebbe sicuramente Greta però io penso che anche raccontare questa versione gettando ombre su un comune di 8 mila abitanti come se fosse la piazza di spaccio italiana direi assolutamente di no poi ci potrebbe essere come in tantissimi altri comuni una situazione di spaccio magari vendono qualche tipo di sostanza superfacente ma parlare di piazza di spaccio dato che facciamo servizio pubblico sembra voler demonizzare e creare un allarme sociale nessuno di noi infatti vuole demonizzare è un racconto che viene vengono riportate le voci delle persone assolutamente no ma anch'io ho raccolto quelle voci e ho ricevuto versioni completamente diverse anche percependolo in prima persona poi chiaramente è possibile tutto magari con l'intervento dei carabinieri però anche questo è interessante il fatto che arrivino delle voci diverse rispetto alle persone che chiedono quindi però adesso con Domenico Marocchi proprio a proposito del fatto che delle persone per bene che vivono in quella zona e che la abitano vogliamo farvi vedere la fiaccolata che è stata organizzata per Sharon dove c'è anche il suo fidanzato esatto Greta andiamo sul tablet ieri sera proprio questa è l'altra faccia di Terno d'Isola che vuole giustizia che prega per Sharon e come vedete dalle immagini ieri sono usciti dalla chiesa e c'è il suo compagno Sergio Ruocco e c'è anche il papà Bruno Verzeni questo uomo che ha dichiarato non provo rancore eccoli li vediamo insieme mentre appunto anche loro partecipano a questa sorta di processione eccolo lì il compagno non si era visto finora e ha deciso di partecipare ieri eccoli li grazie Domenico allora appunto no precisiamo il fatto che noi stiamo raccontando un fatto di cronaca dove ancora sono aperte tutte le piste assolutamente senza nessun giudizio di quello che accade sulle persone questo è molto importante perché veramente anche la famiglia di Sharon ha reagito con una dignità immensa unica allora quindi prima di chiudere velocemente Alessandro Politi ci sono tante piste aperte quale di queste secondo te potrebbe essere quella che prenderà più piede? allora ce ne sono diverse sicuramente il tema e l'ipotesi dello stalker è difficile da credere perché questa persona avrebbe dovuto appostarsi seguirla di notte ed è molto improbabile la pista della droga è possibile cioè che lei possa aver visto qualcuno qualcosa però ripeto anche questo voglio sottolinearlo far intendere che lei sia passata in una zona anomala per andare a fare questa cosa ma questo è chiaro Alessandro no no getta ombre sulla vittima e che assolutamente invece quella è una via vicina al centro tranquillissima e ordinata e ben frequentata per quello che io ho potuto raccogliere questa notte allo stesso orario compatibile con l'aggressione grazie c'è poi un tema che fa riferimento anche a un ipotetico mandante dietro all'omicidio però anche in questo caso ad oggi non ci sono dei riscontri oggettivi quello su cui secondo me si dovrebbe lavorare e stanno sicuramente lavorando anche gli inquirenti sono gli spostamenti tra la casa di Sharon e il momento in cui chiama il 112 passano 50 minuti sono 7 minuti e 45 secondi da casa di Sharon che è in una zona comunque di campagna quindi molto più volendo semplice da occultare dove svolgere dove compiere i reati rispetto alla zona centrale che è molto illuminata e molto densa di popolazioni e abitazioni quindi probabilmente il tema sarà le telecamere hanno inquadrato qualcuno che la pedinava hanno visto qualcosa ha incontrato qualcuno magari in quei 50 minuti perché lei che giro ha fatto noi non sappiamo se lei stava tornando a casa o se stava ancora continuando a camminare continueremo sicuramente a parlarne Alessandro purtroppo il tempo come sai bene non è tanto quindi dobbiamo concludere professoressa Maluseli l'ultima cosa Sharon ha dato un esempio ha avuto il coraggio morendo di chiedere aiuto quella richiesta di aiuto non può essere non sentita dobbiamo ascoltarla e i genitori hanno mostrato una dignità ed un silenzio ed una capacità di entrare in un lutto che è di una violenza incredibile che mi fa pensare che forse se continuiamo a parlare possiamo rifare comunità continuiamo a parlare sicuramente professoressa Maluseli anche perché adesso